Il Covid uccide ancora nel Salernitano. Giuseppina è vittima di questo maledetto virus che ha sconvolto le nostre vite, dice il sindaco di Siano Giorgio Marchese. A San Marzano sul Sarno sono 22 nuovi positivi, 489 in tutto attualmente contagiati. Nell'aggiornamento diffuso nel pomeriggio di ieri il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha invece spiegato che ci sono stati negli ultimi due giorni altri 58 nuovi casi positivi al Covid, ma anche 66 cittadini guariti. Siamo ora a 512 casi attivi nel nostro paese, c'è un lieve calo dei contagi, speriamo si tratti di un primo segnale di avvicinamento al picco di questa ondata di contagi, nonostante tutto non si ferma la campagna vaccinale nel nostro paese, anzi prosegue celermente grazie all'impegno dei nostri volontari. Hanno sottolineato l'assessore alle politiche sanitarie Enzo Ferrante, il primo cittadino. 22 nuovi positivi a mercato San Severino, 435 cittadini attualmente positivi nel comune del Salernitano. Con molto piacere abbiamo ricevuto la comunicazione che 11 concittadini sono guariti, ha invece comunicato il sindaco Antonio Somma. A Vietri sul mare, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 21 nuovi positivi su 153 tamponi eseguiti e 22 sono invece guariti. Sono 286 positivi attualmente del piccolo comune della costiera amalfitana. In Campania, più in generale, sono 14.416 casi positivi al Covid su 93.955 test esaminati. Leggermente in rialzo il tasso di incidenza, che ieri era pari al 15,05% ed oggi sale al 15,34%. 14 i decessi nelle ultime 48 ore. 8 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Negli ospedali continuano a salire i ricoveri. In terapia intensiva i posti letto occupati sono 101, più 1 rispetto al giorno precedente. In leggenza sono 1.348, più 9 rispetto al giorno precedente. Sul fronte ai vaccini, più in generale in Campania, complessivamente sono state effettuate 4.610.627 vaccinazioni con prima dose, 4.837 con seconda dose e 2.766.432 con terza dose. Le somministrazioni sono state in totale 11.380.896.